Noi siamo in Pixar Steve e abbiamo creato e progettato un orologio con i numeri romani che può essere usato per imparare a leggere l'orologio e per apprendere o imparare come si leggono i numeri romani. Poi si può fare così per imparare, per apprendere i numeri romani e per imparare a leggere l'orologio. Magari uno ti fa il conto che è qui e qualcun altro dice vai sul numero 3 e vai qui, poi entri, entri dallo 0, arrivi nel numero 3 e sono anche case quindi volendo uno se gioca, se gioco, potrebbe avere questo mondo e si mette dentro e fa la casa. E una volta che le memorizzi ti viene naturale e cominci a capire i numeri romani. Sì, come vedo qui, prima non lo sapevo cosa significava e adesso ho capito che significava il numero 12. Quindi ti aiuta anche a capire l'orologio e i numeri romani. Sì, come vedo qui.